Gli uomini invecchiano meglio. Conventi loro. La tua cellulita è un problema, la sua pancia un cuscino per l'amore. Angoli, lasciate che vostro marito dorma sul divano. In studio, Roberta Pagnetti. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, dal fondo... Buongiorno signore, buongiorno signori all'ascolto, ben ritrovati. Inizia oggi una nuova puntata di Angoli. Sono lieta di darvi il benvenuto per una puntata che vi condurrà fino a luna, come di consueto. Avremo tantissimi argomenti da trattare, ma oggi è un po' speciale la puntata, dunque non li anticipo. Ricordo solo che abbiamo il nostro indirizzo email con il quale vogliamo invitarvi a entrare in contatto con noi, angoli-espansionetv.it. Sapete che ogni giorno noi vi diamo tantissimi spunti, tantissime informazioni, ci rendiamo conto che magari non sempre si ha carta e penna sotto le mani, e quindi vi chiediamo di utilizzare questo indirizzo per chiederci magari qualcosa che vi siete persi e che vi interessava particolarmente. L'ho detto, puntata tipica perché parte con un allestimento dello studio straordinario, però insomma noi sappiamo fare le magie, allora ecco che il nostro salotto di Angoli ha preso una vita speciale, vi voglio subito dire che ce l'aveva promesso e è ritornato a trovarci. Il dottor Maurizio Parini, buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Allora, noi ci ricordiamo di lei, è già stato nel nostro salotto, lei è il presidente dell'associazione Akusha, corretto? Corretto. Ma anche della scuola di Shatsu e Moxa, che cosa significa questo? Di Shatsu abbiamo parlato l'altra volta questa disciplina giapponese, la moxibustione è un'antica tecnica cinese-giapponese che permette di attivare le forze, le energie del corpo, non con le pressioni tipiche dello Shatsu, ma col calore, quindi un uto termico che diamo al nostro ricevente. Allora Maurizio, oggi veramente abbiamo fatto una magia, non siamo soli io e lei, ma voglio ricordare che c'è anche una modella con noi, già stesa sul lettino, Alessandra, che ringrazio e saluto, perché oggi parliamo di mal di schiena, vero? Parliamo un po' di tutto quello che sono i disturbi legati alla schiena. Innanzitutto, come mai se ne soffre sempre più spesso, Maurizio? Il dolore alla schiena pare che sia un tipo di disturbo, di malattia, di patologia sempre più frequente. I motivi sono tanti, ho portato una slide un po' che dimostra uno di questi motivi qua, nel senso che l'uomo nella sua evoluzione ha cambiato proprio postura, e la postura è uno dei motivi per cui si soffre di mal di schiena, per cui una postura non corretta, ad esempio lo stare molte ore sedute, è uno dei motivi che aggrava il mal di schiena. Quindi magari possiamo già soffrire in generale, stare tanto nella stessa posizione ci può rendere tutto un po' più difficile, corretto? Purtroppo sì, per cui stare tante ore al computer, guidare per tante ore, non fa bene alla schiena, la schiena ne soffre e si lamenta con dei dolori. Io chiedo se si può vedere l'immagine che ci ha portato Maurizio, perché si guarda anche l'evoluzione proprio, corretto? Ecco, è un'immagine un po' simpatica, fa vedere come l'uomo da posizione a quattro zampe si è tirato su in piedi e poi è ritornato ad annicchiarsi o sul divano davanti al televisore, che va bene ma stiamo sentiti corretti, o sul computer. Quindi siamo partiti appunto camminando su quattro zampe, poi in realtà siamo arrivati a risederci su una scrivania, in un ufficio, insomma. Ecco, adesso stiamo vedendo i vari motivi per cui si soffre di schiena, ecco, sottolino in rosso che tra i motivi che ci fanno soffrire ci sono sia le contratture muscolari ma anche i disturbi emotivi, cioè uno stato di tensione, di agitazione, di preoccupazione, anche per la scienza medica può aumentare, aggravare un mal di schiena e questo si collegherà poi con lo sciazzo. Ecco, quando bisogna ricorrere appunto ad un operatore sciazzo nel momento in cui si ha un dolore alla schiena? Allora, innanzitutto bisogna andare dal proprio medico e valutare se il disturbo della schiena non si è mai legato a disturbi più gravi. Se per fortuna non c'è dentro una grossa malattia ma è un problema di stress, tensione e postura allora lo sciazzo può essere utile e ci si può rivolgere a un operatore sciazzo preparato. Ecco, noi non abbiamo fatto a caso questa nuova disposizione dello studio perché oggi ci deve far vedere anche qualcosa di pratico, Maurizio, giusto? Perché appunto quando si capisce che proprio lo sciazzo ci può portare dei benefici succede che ci si rivolge ad un operatore, in questo caso a lei e in quale modo appunto lo sciazzo aiuta chi soffre di disturbi alla schiena? Luca, con lo sciazzo possiamo agire sia direttamente sulla parte dolorante quindi la schiena, sia anche nella posizione opposta ad esempio molti clienti hanno giovamento nel trattamento a pancia in su io mi tiro ad Alessandra a girarsi, pancia in su, giù che è la tipica posizione in cui si opera con lo sciazzo Mani e braccia lungo la schiena, vedo? Esatto, bene distesi abbiamo visto che lo sciazzo vuol dire appoggio, contatto con le mani ci si appoggia e ad esempio si inizia a fare un'opera un po' di distensione su tutta la colonna Lei sta operando una pressione su Alessandra? Esatto, nell'immagine che possiamo vedere volevo anticipare che lo sciazzo tendenzialmente viene sviluppato, viene fatto anche a terra andiamo avanti di un'immagine, gentilmente ecco, questa è l'immagine di Maestro Kobayashi lo sciazzo si fa a terra ho voluto apposta portare il lettino per vedere come in epoca moderna in Italia lo sciazzo si può fare anche tranquillamente sul lettino in cui il cliente è decisamente più comodo però sappiamo che la tradizione vuole anche l'utilizzo proprio di un paziente esatto, quindi modernità e tradizione modernità e tradizione, giusto voglio ricordare, visto che non l'ho fatto ancora ma lo vedrete insomma sul vostro schermo mentre parliamo c'è il sito internet dell'associazione Acusha dunque www.sabbiabianca.it poi noi con il dottor Parini andiamo ovviamente avanti a parlare e allora, mal di schiena presente? mal di schiena presente, allora se il mal di schiena è magari cronico è il tipico mal di schiena in cui la persona cerca il caldo, il termoforo loro sono utili delle applicazioni ai lati della colonna con il pollice che è lo strumento elettivo dello sciatto si fanno una serie di pressioni morbide, dolci, sopportabili sui muscoli paravertebrali quelli che tendono a rigidirsi e a contrarsi abbiamo visto nell'immagine di prima come ci sono tutta una serie di linee meridiani o canali energetici che attraversano la colonna e scendono giù quindi dopo il trattamento della schiena facciamo un'opera di alleggerimento ad esempio interagento lavorando sui punti, sui canali che attraversano la coscia e la gamba oggi noi abbiamo una modella appunto Alessandra, una donna però ovviamente lo shatsu si presta a qualsiasi sesso, a qualsiasi età anche? una delle sue caratteristiche è l'universalità di applicazione va bene per chiaramente uomini e donne, anziani ecco, la terza età a volte l'ostoporodisse non è grave non è un limite all'applicazione ma anzi una, come dire, una sua condizione particolare essendo le pressioni dello sciatto molto morbide e delicate ma dottor Parini, una seduta in questo caso appunto per alleviare il mal di schiena che poi io immagino sia sul lungo termine quanto dura singolarmente e comunque in generale per portare a un beneficio completo quante sedute servono? ma allora, una corretta seduta di sciazzo dura circa un'oretta 50-60 minuti quante sedute siano necessarie dipende chiaramente dalle necessità del ricevente, del cliente se il mal di schiena è venuto occasionamente una o tre sedute possono bastare se è un disturbo che mi trascino da parecchio tempo sono magari necessarie qualche seduta in più per un tempo relativamente breve ecco, dottor Parini, ho visto che lei sta lavorando a pancia con la modella pancia in giù però adesso vedo che c'è ovviamente anche un lavoro su quella che è la posizione a pancia in su sì, questo è molto importante per i motivi primo perché in alcune situazioni chi soffre di mal di schiena fa fatica a stare a pancia in giù e lo shot permette di essere efficace anche col ricevente, col cliente supino poi perché ci sono tutta una serie di collegamenti che non sono solo legate ai famosi meridiani ma anche sono molto più fisici sono proprio muscolari nell'illustrazione che possiamo vedere sono indicate alcune linee alcuni collegamenti che abbiamo tra le vertebre lombari e le cosce per cui si va a interagire con dei muscoli profondi che dalle vertebre lombari scendono giù nell'arto inferiore quando non siamo contratti tutta la mostratura si contrae e si contrae anche un muscolo o un canale che viene stirato in questa posizione qua quindi si ritorna su quella logica di cui ci ha parlato sia la prima volta in cui l'abbiamo incontrato sia pochi minuti fa ovvero ci sono tutti dei canali nel corpo che toccandone alcuni si arriva in realtà a operare anche su altre zone esatto, lo sciat utilizza come interfaccia come metafora di trattamento del corpo quella dei meridiani però si è scoperta in epoca recente che in realtà c'è anche come dire una giustificazione più meccanica più neurologica perché ad esempio per il mal di schiena si agisce in questa magari un po' bizzarra posizione in orienti dicono tratti un canale in occidenti dicono tratta il muscolo l'importante è che la persona poi stia bene Ah beh, quello assolutamente ma li vogliamo dare anche mentre continua a andare avanti noi vediamo insomma anche quelle che sono le sue operazioni vogliamo dare dei consigli perché la prima slide che lei ci ha portato era molto scherzosa molto divertente però rendeva l'idea noi passiamo tanto tempo alla scrivania vuoi per l'ufficio vuoi nelle nostre case diamo consigli per salvaguardarci un po' da quello che è il mal di schiena occasionale i consigli sono quelli classici ma efficaci ad esempio se si deve stare tante ore al computer interrompere ogni oretta fare una breve passeggiata e dopo riprendere il lavoro idem per un viaggio in macchina non fare una lunga pausa ma mediamente ogni 60-70 minuti interrompere per pochi minuti in modo da come dire togliere questo sovraccarico che arriva alle vertebre lombari l'esempio che noi facciamo non possiamo chiudere il rubinetto ogni tanto sbottiamo il secchio alleggeriamo un po' la schiena si lavora panci in su per un mal di schiena comunque sempre negli arti inferiori? si lavora principalmente negli arti inferiori non dimentichiamoci che i muscoli lavorano per catene in sinergia e i meridiani attraversano tutto il corpo per cui in alcuni casi diventa utile lavorare anche in stiramento in trattamento di fasce di muscoli meridiani dell'arto superiore l'idea è sempre di mettere in evidenza particolare linee e poi andare morbidamente con efficacia a premere lungo questi importanti collegamenti del corpo diciamo che quando siamo al di schiena è sempre gradito uno stiramento ah quello assolutamente visto che lei ce ne aveva parlato e vorrei risottolinearlo perché abbiamo visto io ero rapita guardandola operare insomma non ci si improvvisa operatori sciazzo ricordiamo questa nota importante assolutamente è importante affidarsi in mani sicure mani sicure cosa vuol dire un operatore sciazzo che abbia avuto un'adeguata formazione ripeto in Italia è richiesta uno studio una scuola di tre anni per avere una buona preparazione e questo forse è anche il modo giusto per lasciarci perché adesso il tempo a disposizione è finito io però sono molto felice di aver potuto mostrare a tutti i nostri telespettatori insomma una dimostrazione dal vivo perché poi se ne parla tanto ma magari uno non riesce mai a figurarselo bene dottor Parini la ringrazio molto per essere stato con noi ancora grazie a voi ritorneremo sicuramente a parlare dell'associazione Acusha ringrazio anche Alessandra che lei è stesa comodamente sul lettino la vedeva anche rilassata Maurizio mentre si faceva è proprio un momento rilassante lo sciazzo fa bene i primaldi schiena ma è un grosso strumento di rilassamento e ce n'è spesso bisogno eh sì grazie a entrambi dunque noi ci interrompiamo perché è arrivato il momento di una pausa musicale però Angoli vi ho detto non ho anticipato niente ancora tante cose da raccontarvi ora ascoltiamo insieme Michael Bublé con Have and met you yet era Michael Bublé con Have and met you yet e noi come sapete a quest'ora abbiamo un appuntamento importante ci colleghiamo telefonicamente con l'iperdigrandate oggi esploriamo il mondo del garden dovrebbe esserci al telefono con noi Davide Chiodo buongiorno Davide buongiorno a tutti e allora entriamo un po' nel suo regno un regno fatto di piante di fiori di verde vero? sì abbiamo da poco riorganizzato il nostro spazio garden con un'area destinata di 150 metri quadri dove all'interno di esso troviamo di tutto dalle piante ai fiori recisi in questo periodo sono disponibili dei bellissimi ciclamini e fra un po' arriva anche la stella di Natale a un prezzo eccezionale oltre a tutto questo troviamo tutto ciò che serve per il riscaldamento dal pellet alla legna da non dimenticare un vasto assortimento di addobbo natalizio quindi ci possiamo muovere in anticipo anche per le feste che arrivano giusto? assolutamente sì noi siamo già pronti per aiutarvi ad addobbare al meglio la vostra casa e allora Davide io la ringrazio molto per avercene parlato e le auguro buon lavoro insomma un invito a tutti a raggiungervi se fossero interessati grazie a voi e buona giornata grazie grazie ancora ritorniamo noi in studio perché come sempre vi accompagniamo fino a luna lo sapete adesso abbiamo una lunga mezz'ora per affrontare un discorso molto importante è proprio uno spazio informativo quello che ci prendiamo oggi avremo molti ospiti ma adesso capirete il perché innanzitutto fatemi dare il benvenuto ai primi due che si avvicendano però lo ricordiamo parleremo sempre dello stesso argomento per mezz'ora voglio dare il buongiorno innanzitutto all'ingegner Luca Guffanti ben arrivato grazie io ricordo che lei è imprenditore edile e presidente di Ance Como corretto esatto e poi non è solo c'è anche l'architetto Angelo Monti buongiorno 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 a voi presidente dell'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Como allora dobbiamo subito dire ai nostri telespettatori che entriamo in tutto quello che è il mondo casa il mondo edilizia e perché facciamo questo perché si sente tanto parlare di decreto sviluppo lo leggiamo quotidianamente sui giornali e oggi noi vogliamo capire un po' quelle che sono le ricadute effettive per voi professionisti del settore e per noi utenti proprietari di case insomma riguardo a quelle che sono le nuove normative partiamo da questo con l'ingegner Gufanti innanzitutto decreto sviluppo campo dell'edilizia è un argomento che coinvolge moltissimi settori e professionalità vero? senz'altro infatti in una pluralità di attori e di istituzioni enti associazioni imprenditoriali quali la nostra delle imprese di costruzioni le associazioni di categorie artigiane gli ordini professionali nel loro insieme il amministratore di condominio proprietà edilizia nonché istituzioni bancarie abbiamo ritenuto opportuno promuovere un'iniziativa dal titolo 30 giugno 2013 perché nasce questa iniziativa? nasce appunto dal decreto sviluppo che lei prima richiamava approvato prima dell'estate che tra le altre cose prevede una proroga ed un innalzamento degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e per la ristrutturazione degli stessi abbiamo quindi ritenuto opportuno promuovere questa iniziativa al fine di mettere a disposizione a titolo gratuito per i privati cittadini degli opuscoli informativi un sito web e anche un numero verde a quale ci si può rivolgere per avere tutte le informazioni su come poter utilizzare questi incentivi che sono stiamo vedendo peraltro l'immagine a cui si riferisce la locandina 30 giugno 2013 ristrutturare casa costa la metà perché gli incentivi che sono noti come il 50-55% appunto abbattono della metà il costo della ristrutturazione perché 36 2013 il decreto sviluppo prevede che questi incentivi scadano al 30 giugno 2013 e visto che ogni riqualificazione energetica piuttosto che ogni ristrutturazione di un edificio necessita prima di una progettazione poi dell'approvazione di questa progettazione presso gli enti preposti e solo dopo la possibilità di realizzare le opere il 30 giugno 2013 è una data tutt'altro che lontana per cui tutte le persone che fossero interessate ad attivare una riqualificazione o una strutturazione dei propri edifici è opportuno che si muovano il più presto possibile anche noi nel nostro salotto stiamo insistendo un po' su questa data comunque nel corso delle giornate perché ne stiamo parlando molto e quindi oggi abbiamo proprio la possibilità di ricordare a tutti voi che ci seguite ancora una volta quanto sia importante muoversi in questo momento perché insomma si parla tanto di ecosostenibilità comunque di riqualificazione e adesso è il momento giusto anche da un punto di vista legislativo per farlo infatti perché la riqualificazione o la strutturazione energetica oltre agli incentivi che sono un vantaggio diretto propone anche anzi garantisce nel lungo periodo dei risparmi dati da bollette più leggere e minori consumi prevedono anche minore inquinamento quindi ci saranno anche dei benefici in termini ambientali vorrei anche aggiungere che le case così ristrutturate riqualificate energeticamente avranno anche una rivalutazione dei valori in quanto uno di recente ristrutturazione e due una miglior classe energetica garantisce anche un maggior valore dell'immobile io voglio ricordare perché vi daremo molti siti oggi però voglio innanzitutto ricordare visto che lei è il presidente che comunque tutte le informazioni maggiori informazioni si possono avere anche sul sito di Ance e in questo caso vi segnalo www.ancecomo.it visitatelo perché appunto vedrete nell'home page la locandina che abbiamo appena guardato insieme ma ci sono altre possibilità legate a questa iniziativa insomma molto abbiamo già detto adesso dobbiamo un po' entrare nel dettaglio sì è utile suggerire il piano casa della regione Lombardia approvato nella primavera dell'anno corrente che tra le altre cose prevede la possibilità di ampliare del 20% le abitazioni esistenti questi incrementi e ampliamenti non rientrano nel beneficio del 50-55% però essendo anch'essi sottoposti alla necessità di progettazione e quindi di iteratorizzativo e essendo già in animo la realizzazione e la ristrutturazione degli edifici è senz'altro da un punto di vista economico sinergico utilizzare anche questo dove ci sono bisogni di aumento degli spazi vuoi perché la famiglia è cresciuta vuoi perché c'è un figlio che si sta per sposare quindi c'è una nuova necessità abitativa potrebbe essere un'ottima opportunità da cogliere comunque visto che lei anche imprenditore di le cogliamo un po' l'occasione appunto della sua professionalità stiamo parlando ovviamente a tutte quelle persone che hanno una casa non di nuova generazione non di nuova costruzione perché quando si parla di ecosostenibilità insomma tutto ciò che è nuovo viene già adeguato invece adesso stiamo parlando a chi magari abita nelle case preesistenti con insomma anche strutture diverse che non si adeguano alle esigenze attuali ci si rivolge principalmente alle abitazioni costruite negli anni 60, 70, 80 anche perché è utile ricordare che la regione Lombardia forse noi in Lombardia siamo poco inclini a comunicare i nostri pregi abbiamo la legislazione più avanzata in termini di risparmio energetico degli edifici per cui tutti i nuovi edifici sono il massimo che si può avere in Italia da un punto di vista del risparmio energetico io voglio chiedere all'architetto Monti ora insomma un po' quello che è il senso la filosofia che sta alla base di una politica della quale stiamo parlando data anche dal decreto sviluppo che mira proprio alla rigenerazione all'ecosostenibilità di un edificio è proprio così in un certo senso è stato già anticipato anche da Luca Goffanti stiamo entrando in una stagione o in una storia molto differente noi soffriamo ovviamente come settore di una grande momento di crisi siamo però anche consapevoli che usciremo sicuramente perché dobbiamo essere ottimisti è importante essere ottimisti ne usciremo ma usciremo anche con altri obiettivi ecco allora questi temi che riguardano la riqualificazione degli edifici il risparmio energetico che è un bene per noi che ci abitiamo ma è un bene anche per l'ambiente in cui noi viviamo ecco questi argomenti secondo noi saranno al centro diciamo del prossimo futuro e di quelle che saranno le attività di nuova costruzione che potranno essere sviluppati in che senso nel senso che andremo incontro a un tempo in cui noi dovremo riconsiderare fortemente il nostro uso di suolo sempre meno dovremo consumare suoli perché questi suoli hanno un valore che non è più riproducibile sempre più dovremo ricostruire o riqualificare proprio quegli edifici su cui il nostro la nostra iniziativa mette l'accento e che sono quegli edifici che non hanno qualità energetiche o costruttive ma che possiamo assolutamente recuperare questo è lo spirito diciamo generale ed è molto chiaro però vorrei arrivare ad un'altra domanda perché abbiamo un minuto e mezzo purtroppo il tempo il tempo vola innanzitutto ricordo che c'è anche il vostro sito internet perché vi ho detto avrete moltissimi tutti gli enti che fanno parte di questo sforzo comune di questa alleanza sul tema hanno ovviamente contribuiscono alla diffusione all'informazione quindi abbiamo già dato sito del lancio e como ma diamo anche www.ordinearchitetticomo.it quindi valgono tutti perché insomma vi state muovendo con sinergia e con noi gli ingegneri tutti rimandano a un sito comune che è www.30giugno2013.it che è il sito che raccoglie e specifica questa iniziativa chiarissimo ma architetto cosa prevede invece il governo con l'introduzione di un piano nazionale per le città ecco questo ha fatto bene a sottolinearlo perché perché è proprio l'orientamento che finalmente a mio avviso ha come dire viene raccolto anche da una politica nazionale cioè tutto questo tema della rigenerazione come la definiamo noi la riqualificazione che va dagli edifici ma va anche da intere aree urbane è un tema che il nostro paese ha un po' sottovalutato negli ultimi decenni e lo dicono i dati il consumo eccessivo come vi dicevo anche del suolo adesso anche a livello normativo viene recuperata attenzione sulla necessità di pensare alle nostre città come necessariamente luoghi che vanno riqualificati il decreto sviluppo oltre ai provvedimenti che vengono richiamati da 30 giugno 2013 introduce finalmente anche per il nostro paese un piano nazionale per il recupero e la riqualificazione delle aree urbane quindi la politica insomma è arrivata anche lei alla conclusione che bisogna la politica non so quanto si è ancora arrivata diciamo che i segnali almeno raccolti in questo senso sono indiretti a valorizzare questa attenzione credo che il lavoro della politica cominci ora nel senso di dare veramente spazio a questa filosofia che crediamo sia la filosofia del nostro futuro sono 120 milioni i vani disponibili nel patrimonio edilizio nazionale una stima che non è nostra indica circa 90 milioni i vani che hanno necessità di essere riqualificati e rigenerati quindi è per questo l'importanza è una bella fetta i numeri parlano forse ancora di più rispetto a quello che abbiamo raccontato fino ad ora io vi ho detto facciamo anche il prossimo quarto d'ora su questo argomento importantissimo vi chiedo di seguirlo per ora ringrazio perché dobbiamo fermarci è arrivato il momento di una pausa l'ingegnere Luca Guffanti molte grazie grazie a voi e anche l'architetto Angelo Monti grazie a voi grazie e noi ritorniamo con Angoli e con questo importantissimo argomento fra pochi minuti ben ritrovati dopo la pausa si ritorna in diretta per la seconda parte di Angoli come faccio ogni giorno a quest'ora insomma ricordo anche il nostro indirizzo email angolichioccio l'espansione tv.it perché è il modo per entrare in contatto con noi soprattutto quando si parla di argomenti così importanti ad esempio come stiamo facendo adesso perché chi ci ha seguito poco prima della pausa sa che abbiamo iniziato a parlare di tutto ciò che è il decreto sviluppo nel campo dell'edilizia stiamo dando una data importante quella del 30 giugno 2013 perché entro questa data insomma si può ristrutturare casa ristrutturare le nostre abitazioni con un risparmio notevole vi avevo detto che appunto avremmo avuto diversi ospiti due ne abbiamo già incontrati li abbiamo ringraziati e salutati ma due nuovi sono arrivati in studio e voglio dare il benvenuto allora al dottor Antonio Moglia buongiorno buongiorno funzionario del lance di Como corretto? correttissimo e poi la ragioniera ci siamo dette che si poteva dire ragioniera Rosaria Molteni lei invece è presidente di Anaci Como e io ricordo che è l'associazione degli amministratori di condominio corretto? esatto e allora anche in questo caso anche per i vostri settori abbiamo capito che il decreto sviluppo coinvolge anche le vostre associazioni abbiamo dato una data importante dottor Moglia il 30 giugno insomma si può ristrutturare casa risparmiando ma in che modo si ottiene questo risparmio? entriamo un po' nel dettaglio adesso è un vero e proprio risparmio reale è uno sconto sulle tasse quindi le persone che pagano l'IRPEF potranno accumulare uno sconto delle tasse pari proprio al 50% del totale dei lavori che vengono fatti il massimale la cifra massima dei lavori rispetto alla quale si può ottenere il risparmio del 50% è elevata sono 96.000 euro quindi facendo i conti proprio molto molto semplici il 50% di 96.000 euro di lavori sono 48.000 euro di sconto dall'IRPEF che il proprietario di casa può ottenere la particolarità è che lo sconto non si ottiene subito ma viene diluito in 10 anni quindi questo vuol dire che nell'esempio del caso massimo di sconto quindi i 96.000 che col 50% diventano 48.000 lo sconto sarà sulle tasse di 4.800 euro per ogni anno le tasse si recuperano mediante il modello dichiarativo unico o preferibilmente il modello dichiarativo 730 quindi tutta la platea dei proprietari di casa utenti e anche contribuenti fiscali lavoratori e pensionati potranno avere effettivamente una massimizzazione di questo sconto immediata proprio sulle tasse sul portafoglio ed è un'occasione davvero unica e importante perché la cifra stessa l'entità stessa della cifra elevata al 50% è importante vuol come dire metà ce la metti tu e metà ci penso io perché ricordiamolo magari per chi non ci avesse seguito prima della pausa nella prima mezz'ora di Angoli insomma stiamo parlando del decreto sviluppo quindi normative che arrivano e invitano le persone che abitano non in appartamenti non in case di ultima generazione ad adeguarsi a tutte quelle che sono poi invece delle richieste anche dal punto di vista energetico quindi stiamo parlando a persone che vivono in edifici non di ultima generazione si tratta proprio di adeguarsi quelle che sono le nuove esigenze in materia di ecosostenibilità esatto è proprio questa una particolarità appunto la data perché il beneficio scadrà il 30 giugno 2013 e poi gli interventi agevolati sono gli interventi di recupero edilizio quindi le manutenzioni ordinarie e straordinarie le manutenzioni ordinarie soprattutto sui condomini che danno questo beneficio del 50% se addirittura i lavori raggiungono delle performance più eccellenti dal punto di vista del risparmio energetico e qui sta la differenza tra 50 e 55 addirittura il beneficio si alza arriva al 55% anche questo importo è significativo perché è oltre la metà della spesa come dire se fai un intervento che ha questa valenza anche ambientale importante oltre a qualificare la tua casa fai una cosa importante ti do più della metà ti ritorno più della metà sotto forma di sconto di imposta quindi è un beneficio reale che tocca il portafoglio delle persone ha fatto bene a sottolinearlo perché appunto chi si sta informando sull'argomento sta sentendo parlare di due percentuali il 50 e il 55% quindi abbiamo capito che la discriminante comunque è l'entità del lavoro che si fa e quindi l'entità anche del risparmio energetico che si ottiene esatto è proprio questo 50 e 55 seguono questa filosofia ogni intervento fino al 30 di giugno fatto su un edificio godrà del beneficio del 50% se lo fai leggermente più performante hai un quid in più di beneficio 55% entrambi gli interventi peraltro non cumulati ma parallelamente si combinano quindi nello stesso lavoro di recupero che faccio per la mia abitazione parte dei lavori li ha soggetto come si suol dire al 50% e parte li ha soggetto al 55% quindi pianificando il massimo della convenienza fiscale su un intervento che fra l'altro c'è anche una valenza importante perché mi migliora il mio ambito la scadenza del 30 giugno è importante perché cosa succederà dal primo di luglio l'incentivo sui benefici fiscali del 55% quindi quelli energetici non ci saranno più cesseranno dal primo di luglio del 2013 e invece l'incentivo del 50% ritornerà nella sua percentuale oramai classica istituzionale consolidata del 36% però su un importo massimo di spesa anche questo ridotto di 48 mila euro l'occasione che c'è adesso è unica si tratta veramente di segnarsi questa data per effettuare un vero e proprio investimento perché è questo che stiamo dicendo si tratta veramente di questo e ricordo ancora www.ancecomo.it perché noi stiamo parlando però ci rendiamo conto che magari qualcuno vuole maggiori informazioni vale sempre e poi ha parlato giustamente di investimento partner della nostra iniziativa sono anche istituti di credito amici che aggiovolerebbero la possibilità anche di finanziare questo investimento per i privati possiamo allora invitare tutti tramite il sito di prendere contatti con voi per avere maggiori informazioni anche su questo senso assolutamente sì il senso del sito è proprio questo perché la nostra finalità è quella di dare maggior diffusione possibile a questa iniziativa ogni tanto c'è qualcosa di buono facciamolo conoscere è vero è vero per quello che stiamo insistendo così tanto ma io voglio arrivare adesso alla signora Molteni perché insomma cerchiamo di capire invece il ruolo dell'amministratore condominiale proprio nella detrazione del 50 o del 55% di cui abbiamo appena parlato allora il ruolo dell'amministratore condominiale professionale perché spesso si trova qualcuno ancora di impreparato a svolgere questo compito è quello un po' di guida e facendo da guida all'assemblea amplifica anche quelle che sono le notizie e le conoscenze di tutte queste particolarità necessarie ed opportune a realizzare questo beneficio fiscale il condominio ha bisogno di tempi abbastanza lunghi per arrivare a deliberare a impostare i lavori e quindi a pagarli entro il 30 giugno 2013 poiché i tempi sono difficili e soprattutto economicamente c'è poca disponibilità da parte delle persone a investire nonostante si parli di investimento ci sono venute incontro le banche che attraverso questo tavolo come già in passato favoriscono il finanziamento di questi interventi con rimborso in 3-5 anni a seconda dell'entità della spesa secondo di quanto il condominio chiede questo mette tutti nella possibilità di realizzare quegli investimenti di recupero edilizio ed energetico a beneficio di tutta la comunità quindi comunque rimane la figura ancora una volta di riferimento per l'amministratore deve essere la guida esatto perché le persone che compongono un'assemblea sono del tutto eterogenee non tutte sono preparate alcuni hanno conoscenza di alcune nozioni altri di nessuna nozione quindi nel momento in cui l'amministratore presenta la possibilità di realizzare questi interventi mette tutti in condizioni di decidere serenamente quindi deve essere proprio un po' un faro per tutte le persone che compongono un condominio in un minuto mi rendo conto è molto poco il tempo però cerchiamo anche di spiegare come si realizza il risparmio fiscale in un condominio ma in un condominio si realizza sempre attraverso l'amministratore l'operato dell'amministratore il quale deve provvedere a liquidare tutte le fatture dei fornitori che interverranno in questa sequenza di interventi attraverso bonifici fiscali riportando ogni volta il numero di legge riferita a questo tipo di risparmio fiscale ogni banca ha il suo modello altrimenti si fa si prepara singolarmente e l'anno successivo all'anno in cui si sono effettuati questi bonifici questi pagamenti per interventi realizzati l'amministratore deve consegnare entro febbraio marzo ad ogni singolo condomino una dichiarazione corredata di tutte le fotocopie dei bonifici effettuati delle fatture ricevute dai fornitori e del riparto di spesa che compete a ciascun condomino in modo che ciascuno sia in grado di calcolare il suo 50% sulla spesa che ha pagato effettivamente o che pagherà effettivamente avendo usufruito del finanziamento bancario allora do il sito internet anche in questo caso di Anaci che è www.anacicomo.it lei in qualità di presidente insomma tutti gli amministratori della provincia sono già un po' preparati possiamo invitare chi abita in condominio a rivolgersi a fare domande certo certo bene però ricordatevi noi adesso dobbiamo fermarci anche se ci sarebbe molto da dire non escluso che torneremo sull'argomento perché è molto importante ricordatevi di segnare comunque il 30 giugno 2013 stiamo insistendo ma è importante è il momento giusto per riqualificare le nostre abitazioni insomma ce lo chiedono tutti anche per star meglio noi a vivere dentro alle nostre case ma per far star meglio anche l'ambiente voglio ringraziare molto sia il dottor Antonio Moglia grazie a lei che la ragioniera Rosaria Molteni per essere stati con noi e noi ci dobbiamo interrompere solo per una breve pausa musicale ascoltiamo insieme Laura Pausini con Mi Tengo e poi ritorniamo in diretta nel nostro salotto ed era Laura Pausini dunque noi che cosa facciamo ritorniamo in studio perché a luna ci salutiamo vi auguriamo buon appetito e tutto il resto insomma lo sapete una bellissima giornata però adesso dobbiamo ancora parlare per 10 minuti e che cosa facciamo oggi è una puntata così molto importante ritorniamo a parlare di salute come lo facciamo innanzitutto con due ospiti molto graditi al quale voglio dare il mio benvenuto in realtà per il dottor Carlo Marazzini è veramente un benvenuto perché è l'esordio nel nostro salotto buongiorno grazie buongiorno ricordo che è il direttore sanitario della cooperativa CSR e adesso indagheremo bene di cosa si tratta per tutti quelli che magari all'ascolto non conoscono questa realtà però devo anche rivolgere un ben ritrovato in realtà grazie al dottor Mario Cecchetti sono felice che è tornato nel nostro studio la ringrazio solo un piacere e dunque lei è il direttore sanitario invece della casa di cura La Quiete di Varese noi per tutti voi telespettatori appassionati insomma che ci seguite con costanza diciamo che ritorniamo in realtà a parlare della realtà La Quiete di Varese perché già abbiamo intrapreso un percorso abbiamo intrapreso un percorso La Quiete abbiamo già parlato è una casa di cura che lavora nell'ambito privato e nell'ambito pubblico convenzionato con servizio sanitario nazionale in questo momento ha intrapreso una grossa collaborazione con questa cooperativa per far sì di mettere a disposizione degli spazi e delle attrezzature in modo tale da poter seguire quei malati che non sono ancora in grado di rientrare in domicilio e quindi hanno necessità di quelle che vengono chiamate delle cure intermedie e quindi avremo la possibilità di lavorare con 30 pazienti che verranno inviati presso la struttura come spiegherà poi il collega attraverso la consulenza dei medici di base attraverso la consulenza degli specialisti ospedalieri che riterranno opportuno avvalersi di questo tipo di servizio Noi siamo felici quando la vediamo in studio quando vediamo in studio comunque sempre qualche rappresentante della quiete di Varese perché è proprio un percorso voi ci guidate di settimana in settimana insomma quando ci vediamo un po' alla scoperta di quelle che sono realtà molto importanti da sottolineare oggi ne è proprio un esempio io vorrei innanzitutto chiedere al dottor Marazzini se può un po' inquadrare per chi magari non conoscesse bene la vostra realtà che cos'è la cooperativa CSR e di cosa si occupa? Allora la cooperativa servizi e riabilitazione nasce nel 1997 e si occupa di socio-sanitario quindi sia di una parte sociale che di una parte sanitaria gestiamo e progettiamo dei servizi all'interno di strutture residenziali e assistenziali per anziani di ospedali di sale operatorie di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione domiciliare quindi siamo ben articolati e siamo molto presenti sul territorio l'ambito su cui noi operiamo ripeto un ambito sia prettamente sanitario come possono essere le sale operatorie ma anche un ambito socio-sanitario come in questo caso riguarda il progetto di cui andiamo a parlare fra poco posso solo dire perché l'ho visto non volevo interrompere abbiamo appena guardato l'home page della cooperativa e c'è sito internet voglio darlo perché è giusto comunque segnarsi un po' quelli che sono i siti internet per andare poi a scoprire qualcosa di più anche nelle vostre case www.cop trattino servizi trattino riabilitazione punto it io l'ho detto così però si legge si legge meglio voi guardate perché insomma non vorrei sbagliare abbiamo anche segnalato www.lapietevarese punto it perché è importante oggi parliamo proprio di un matrimonio professionale in questo caso e parliamo proprio del progetto cura intermedia chi me lo introduce a vostra discrezione vai ormai siamo in ottima sintonia con il dottor Cech si vede niente il progetto cura intermedia si colloca nell'ambito di una sperimentazione che è in atto ormai da qualche mese in regione Lombardia non è l'unico progetto presente e che è stato approvato dalla regione stessa nell'ambito del socio sanitario ma fa parte di tanti progetti che sono in atto ognuno di questi progetti ha delle peculiarità il nostro appunto si colloca nell'ambito delle cure intermedie cosa vuol dire cure intermedie vuol dire la possibilità di assistere un paziente in una struttura che non è così complessa come può essere un ospedale che ha a disposizione 24 ore su 24 un laboratorio un pronto soccorso una diagnostica molto importante ma che tuttavia il paziente in questione non ha possibilità ancora di tornare a domicilio questo è un po' il discorso sulle cure intermedie e questa era la dovuta introduzione un po' per spiegare quello che poteva essere un termine magari ostico e poco sentito però adesso spieghiamo proprio a chi è rivolto e come si può attivare questo servizio il progetto durerà un anno ed è rivolto a pazienti che da un punto di vista clinico non sono così complicati da doversi recare o essere ricoverati in ospedale ma che non possono essere assistiti in maniera deglata a casa così come il percorso contrario avviene dall'ospedale cioè il paziente che è stato ricoverato per un'acuzia è stato stabilizzato quindi ha avuto una sua diagnosi una sua terapia ma che non può ritornare a casa perché non ha ancora un grado di autosufficienza questo ricovero prolungato per l'ospedale avrebbe un carico da un punto di vista è un onere pesante il mantenerlo in degenza per molti giorni a questo punto c'è la proposta di missione da parte dello specialista del collega ospedaliero che invia presso la nostra struttura il paziente per proseguire e stabilizzare la terapia ma per far sì che poi ci sia all'interno del percorso una figura che si prende carico a 360 gradi della famiglia e dell'ospite che in questo caso è un care manager quindi un infermiere professionale ma con valenza non solo sanitaria ma anche assistenziale il quale si occuperà poi dell'organizzazione e del ritorno a domicilio possibilmente in autosufficienza del paziente ha detto che avrà questo progetto questo servizio la durata di un anno si tratta quindi di una sorta di sperimentazione è una sperimentazione alla quale noi teniamo molto perché ci crediamo anche perché sarà monitorata e seguita nel tempo dalla regione stessa e dall'ASD di Varese con cui abbiamo collaborato nella stesura del progetto e ha un significato importante perché farà sì che il paziente sia il più possibile ritorni al domicilio un paziente fragile quindi un paziente per lo più anziano che possa tornare alle sue normali attività nel suo ambito domestico e seguito poi in assistenza domiciliare integrata quindi evitando poi possibilmente se non c'è una continuità di cure tra ospedale casa di cure la quiete o chiamiamole cure intermedie e territorio il più possibile uno spreco sempre inferiore di risorse in termini proprio di denaro e la nostra volontà è quella di una sempre minora possibilità di ricovero perché sarebbe una sconfitta nel proseguo della gestione del paziente volevo chiedere al dottor Cecchetti insomma un po' di spiegare la posizione della quiete di Varese rispetto a questo progetto perché mi sembra sottolineava il dottore insomma che siete molto in sintonia mi sembra che anche la quiete ha riconosciuto la bontà di questo progetto la quiete ha riconosciuto la bontà del progetto proprio in funzione del fatto di essere a disposizione del cittadino noi siamo una struttura come avevo detto precedentemente estremamente privata con una privatizzazione molto specifica tempo addietro oggi come oggi c'è invece la possibilità di contribuire proprio nell'erogare dei servizi legati al sociale e al servizio sanitario nazionale che non è poco da parte proprio della popolazione dell'utente che anche con scarse possibilità economiche ha la possibilità di accedere a un servizio altamente specializzato e soprattutto di grande ausilio alle famiglie perché non sempre la famiglia è in grado di partire immediatamente e di organizzarsi subito dopo un ricovero ospedaliero che alcune volte può essere anche pesante che si è risolto in maniera brillante ma che non ha dato l'autonomia necessaria al paziente per poter rientrare nella famiglia io tra l'altro voglio ricordare a chi ci sta guardando da casa insomma che stiamo anche vedendo delle immagini della quiete perché magari qualcuno all'ascolto non ha seguito i nostri incontri precedenti però si tratta di una realtà che già dalle fotografie vediamo dalle immagini è una realtà meravigliosa è una realtà molto bella dal punto di vista sia architettonico che di ubicazione all'interno della città e quindi è una struttura che va sicuramente valorizzata in tutti i sensi oltre che in quello sanitario anche proprio in quello vero e proprio di immagine della città stessa anche perché il nome la quiete mi sembra non sia stato dato a caso perché già dalle fotografie si vede che di nome e di fatto esatto di nome e di fatto diciamo che se posso aggiungere un'ultima cosa la quiete si colloca ormai ufficialmente a disposizione del territorio a disposizione dell'assistenza primaria quindi dei medici di medicina generale i quali loro stessi potranno entrare a far parte di questo progetto in maniera fattiva essendo coinvolti in prima persona poi nella gestione anche del paziente ricoverato in sintonia con il nostro responsabile medico beh io voglio comunque sottolineare perché accennava prima il dottor Marazzini comunque questo progetto di cui abbiamo parlato relativo alle cure intermedie riguarda un gruppo di lavoro fatto sia da cooperativa CSR la quiete ma c'è anche l'ASL di Varese insomma sono molti parte l'ASL di Varese la regione con in questo caso con il Welf e quindi con l'assessorato alla sociosanità insomma per lasciarci per lasciare un messaggio anche a chi ci sta seguendo qual è il vostro augurio le vostre aspettative che ponete dalla parte di cooperativa e dalla parte di la quiete di Varese insomma su questo progetto ma il nostro augurio è un progetto in cui noi ci crediamo noi come filosofia partiamo sempre con la bontà delle idee e con la volontà di portare a termine qualcosa che sia al servizio del cittadino e al servizio delle famiglie oggi le famiglie spesso non sanno di quale opportunità hanno a disposizione per gestire il proprio il proprio familiare la propria persona a cui sono legate affettivamente e questo progetto ci permette nel momento in cui il paziente è ricoverato di dare quel qualcosa in più da un punto di vista dell'assistenza anche proprio burocratica alla famiglia per disbrigare anche delle pratiche che alcune volte la famiglia stessa non sa come come svolgere e l'augurio è quello di riuscire poi a portare avanti negli anni futuri questo progetto che non sia più una sperimentazione ma che diventi assolutamente una cosa fattiva anche perché la popolazione anziana aumenterà di circa il 20% nei prossimi 25 anni oltre 69 anni ce ne sarà sempre più bisogno dottor Cecchetti affido a lei un po' l'appello comunque per chi ci segue di fare domande chiedere mettersi in contatto con voi insomma i siti li stiamo dando noi siamo assolutamente a disposizione il nostro personale impiegati sono tutti a disposizione per dare tutte le informazioni del caso la cooperativa collabora in maniera assolutamente egregia è importante che ci sia come ha detto giustamente il collega questa integrazione fra la struttura sanitaria e il territorio in particolare tutta l'utenza qualsiasi tipo di utenza io ringrazio sia il dottor Carlo Marazzini direttore sanitario della cooperativa CSR per essere stato con noi e sia il dottor Mario Cecchetti il direttore sanitario invece della casa di cura la quiete di Varese molte grazie grazie a voi spero di ritrovarvi presto insomma ma torneremo a parlarne io ne sono certa noi invece dobbiamo fermarci con angoli perché siamo giunti al termine anche di questa puntata però lo sapete io vi auguro un ottimo pomeriggio che abbiate una bellissima giornata ma come sempre l'appuntamento è rimandato alle 12 di domani sarò in diretta per voi con tanti nuovi ospiti e tanti nuovi argomenti vi aspetto